io vladimiro qui casa sia pina opera milano italia io vengo da lontano tanto lontano qui bagno già appena qui corridoio sia pina bello corridoio tutto bianco roba da matti dico zia pina qui in italia avete matti come noi in russia chiedo zia pina ecco qua zia pina chiedo zia pina voi avete qui aspetta giro zia pina che incontro sole via contro luce via gira zia pina gira con scarpette gira gira luce ecco zia pina bella bella vecchia zia pina allora io chiedo chiedo zia pina cosa chiedi vedi lei fa domanda sempre domanda noi in russia non facciamo quante domande no io faccio domanda bene io chiedo zia pina qui italia avete matti matti gente matta sì ce ne sono sì sì tanti ma non so di preciso però ci sono quanti migliaia milioni qualche mille non so va bene zia pina brava io vladimiro qua con zia pina e posso venire a chiamato vladimiro oh zia pina si spaventa subito fa vedere voglia zia pina voglia voglia zia pina sempre più bella molto grande speriamo che non esploda se no qui arrivano cinghiali cinghiali a mangiare la voglia di zia pina io vladimiro tanto buono tanto bravo con zia pina ciao ciao ciao